come sei cresciuta ehi bella guarda dove vai ferma, ferma nella mia classe non ci si veste così carino quello e sa di esserlo giorno stellina che ci fai qui? le boy band tornano di moda? non ha la stoffa giusta la gamba ehi con quell'affare mi stai sputacchiando tutta esistono passi che neanche immagini è ora di formare un gruppo per partecipare al The Streets fidati The Streets è una gara in cui i gruppi di street dance si sfidano all'ultimo passo ci sto attenta Andy così rischi di innamorarti di me se partecipi a quella competizione sarai espulsa ok andiamo hai molto più talento e più grinta di tutti quelli che conosco lo sai che inizia a piacermi vero? che onore l'ha detto soltanto per fare la difficile ci sono Super.